Afferro il bastone in questa posizione, braccio sinistro, braccio sano, facendo perno con i gomiti bene attaccati ai fianchi, spingo col braccio sinistro il braccio destro e vado ad aprire. Andiamo a creare una rotazione. Uno, due, mi raccomando i gomiti non si staccano mai dai fianchi. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, giù e riposo.